Bene Ivan, eccoci qua, ben ritrovato, in archivio la prima tappa, anzi le prime due tappe di questa settimana Coppie Bartali. Vai, impressioni. Innanzitutto è un po' tardi, due semi tappe in un giorno rendono la giornata un po' particolare. È stato per noi un buon inizio di questa settimana Coppie Bartali, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi abbiamo finito una Tirreno Adriatico molto difficile, molto dura, non siamo stati molto bravi nella gara Trofeo Martini e oggi devo dire che la squadra ha dato una dimostrazione, abbiamo cambiato 5 corridori su 7 rispetto alla Tirreno per dare il giusto cambio ai ragazzi. Abbiamo una squadra che è molto forte, è una squadra ben attrezzata per fare un buon risultato in questa corsa. Questa mattina mi è piaciuta, la squadra si è mossa molto bene, era un finale difficile, la prima tappa, semi tappa di 90 km, con molta confusione, tutti i corridori freschi, una tappa di poco più di due ore. La squadra doveva essere esattamente in un punto preciso in testa, sono entrati molto bene nel finale, non avevamo il velocista più forte. Albanese ha dimostrato di avere la volontà di provarci, avrebbe potuto con un po' più di convinzione ottenere un risultato migliore, però devo dire che l'approccio è stato positivo. Oggi nella cronometro a squadra qualche secondo meglio si poteva fare, però è un esercizio nella cronometro a squadra dove ci vuole l'esperienza, dove bisogna farne di cronometro per migliorare. La cronometro a squadra è una specialità molto bella, ma anche molto difficile, quindi non mi aspettavo un risultato molto più bello rispetto di quello che hanno fatto i ragazzi, però ritengo che se guardiamo l'aspetto positivo, una squadra molto più predisposta per la salita, quindi per i prossimi giorni, ha fatto una cronometro secondo me buona, che dimostra che la squadra è pronta e già da domani mi aspetto ovviamente lo stesso cambio di marcia che ho chiesto ai ragazzi che hanno fatto la Tireno, mi aspetto ovviamente dei ragazzi che sono qui a questa Tireno Adriatico. Qui abbiamo dei corridori bravi in salita e quindi lavoreremo su due fronti, sulla tappa del giorno e sulla classifica generale, perché a mio modo di vedere sia Ravasi che Fancello hanno le caratteristiche per poter fare anche una buona classifica in previsione delle prossime corse. Bene, hai detto tutto tu, hai anticipato qualsiasi mia domanda, per cui direi che anche perché si è fatto davvero tardi, non ci resta che augurare la buonanotte e dire che oggi è già domani e non è solo un modo di dire insomma. No, non è un modo di dire, le corse a tappe sono così, è un esercizio continuo, è un avvicinamento anche al nostro grande appuntamento che è il Giro d'Italia, ne approfitto anche per dire che i nostri due corridori che hanno avuto gli infortuni più gravi, Gavazzi ha ripreso ad allenarsi molto bene, sta bene, è una grossa perdita per noi e lo stesso vale per Belletti che è caduto nella seconda tappa della Tireno, oggi era con noi alla prima tappa di questa Coppie Vartali. Sono i due corridori che ci mancano in questo inizio di stagione, che davano stabilità, che davano equilibrio, che davano quella saggezza e capacità di gestire anche le situazioni complicate con i nostri giovani, però la notizia importante è che sono in ripresa e che ritorneranno al Giro di Turchia, quindi li ritroveremo tra un paio di settimane ancora con il numero sulla schiena e pronti a dare battaglia. E noi vi ritroveremo con ancora tante storie da raccontarvi, quindi per il momento qui da Riccione, dalla settimana Coppie Vartali, è tutto, buonanotte. Buonanotte.